Il prossimo 30 giugno il movimento Nomuos darà vita a una nuova manifestazione regionale decentrata a Caltagirone allo scopo di attraversare quei territori che in questi lunghi anni di mobilitazione si sono dimostrati sensibili alla causa della smilitarizzazione della sugheretta di Niscemi e di tutta la Sicilia. Caltagirone per la sua posizione è uno dei centri maggiormente esposti all'impatto delle onde elettromagnetiche delle antenne delle parabole Muos ubicate a pochi chilometri di distanza. Da anni in questa città si verificano patologie strettamente correlate al danno da elettromagnetismo e si contano già alcuni decessi sospetti. Tuttavia da parte delle istituzioni non si vuole andare fino in fondo nella ricerca della verità. La stessa azione della procura che più volte ha sequestrato l'impianto Muos per abusivismo è stata stroncata da interventi a gamba tesa da parte dello Stato. Una sentenza illogica, contraddittoria e superficiale afferma il movimento Non Muos che con un colpo di spugna vorrebbe cancellare l'impegno profuso dalla procura. Il movimento Non Muos ha avuto fino ad oggi la capacità e la pazienza di leggere e analizzare questi passaggi come atti di questa battaglia che si sta compiendo in quest'area della Sicilia fra chi vuole continuare a ipotecare il destino della nostra terra incatenando la scelta militaristica e guerra fondaie e chi, movimenti e popolazione, cerca a un caro prezzo di porre un freno a questo processo per far imboccare una via nuova alla Sicilia e siciliani. Dopo il 30 giugno il movimento Tornerà Niscemi riattiverà il presidio di Contrada Ulmo in vista del campeggio del 2 e 5 agosto e della manifestazione nazionale del 4 agosto. Perché questa lotta non si ferma, conclude il movimento Non Muos Questa lotta è portatrice di sani valori, libertà, giustizia sociale, eguaglianza, solidarietà, internazionalismo e fa parte ormai della vita di centinaia e centinaia di persone che non si fermeranno davanti a nessun ostacolo.